ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questa è la presentazione della mia nuova intro del canale ragazzi voi direte cazzo sto facendo una presentazione per una intro si sto facendo una presentazione per una nuova intro del canale ma è una intro molto particolare ragazzi perché questa intro è stata realizzata da un rapper apposta per me apposta per il mio canale quindi mi sento onorato di aver ricevuto questo regalo da questo rapper questa persona vuole rimanere anonima quindi io rispetterò la sua volontà lasciando anonima questa persona e nulla ragazzi questa intro andrà a sostituire un intro nel canale quella che si vede per i nuovi visitatori e quindi ci sarà questa nuova intro in pratica allora questa intro come dicevo l'audio è stato realizzato da questo rapper che ringrazio infinitamente non finirò mai di ringraziarlo anche perché mi ha reso veramente felice con questa intro e il video è stato realizzato da me spero che vi piaccia ragazzi spero che continuate a continuere ad iscrivervi al mio canale ma giustamente dovevo fare anche la piccola capa spero che continuare ad iscrivervi al mio canale due volte defila lo sbaglio vabbè comunque c'è sta tutto nulla ragazzi solo questa intro secondo me merita l'iscrizione al canale per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video ragazzi godetevi l'intro ciao a tutti ciao Grazie a tutti